il vampiro e chi non conosce questo essere soprannaturale eppure forse molti di voi non sanno che i vampiri esistono e si muovono in mezzo a noi no non sono impazzita e tra poco scoprirai anche perché iniziamo però col conoscere qualcosa riguardo ai vampiri che molti non sanno intanto precisiamo che il termine vampiro divenne popolare solo agli inizi del diciottesimo secolo e avvenne grazie all'influenza delle superstizioni presenti nell'europa dell'est e nei balcani dove le leggende sui vampiri erano molto diffuse e la superstizione nei confronti dei vampiri crebbe a tal punto da far nascere una grave isteria collettiva che in alcuni casi portò a piantare paletti nei cadaveri e ad accusare alcune persone di vampirismo e se pensate che la diffusione della figura del vampiro sia dovuta in gran parte al romanzo dracula di bram stalker pubblicato nel 1897 beh in realtà fu il successo del romanzo il vampiro di john polidori nel 1819 a instaurare la carismatica e sofisticata figura del vampiro nell'arte che poi influenzò le opere vampiresche del diciannovesimo secolo compreso il romanzo di stalker che comunque è considerato la quintessenza del romanzo vampiresco ed ha fornito le basi per le opere moderne perché il successo del suo libro fece nascere un genere vampiresco che è ancora popolare nel ventunesimo secolo con un'impressionante collezione di libri film videogiochi e serie televisive l'esatta etimologia del termine vampiro non è chiara ma si ritiene che probabilmente derivi dal serbo vampir e che sia poi passato al tedesco vampir al francese vampir all'inglese vampire e all'italiano vampiro il concetto di vampirismo esiste da millenni culture come quella mesopotamica ebraica greca e romana concepirono demoni e spiriti che possono essere considerati precursori dei moderni vampiri in tutte le leggende di ogni civiltà passata e presente però i diversi tipi di vampiri vengono tutti accomunati da una caratteristica chiave cioè quella di nutrirsi in qualsiasi diversa maniera dei loro simili a ogni modo nonostante la presenza di creature simili ai vampiri in queste antiche civiltà il folklore sui vampiri così come lo conosciamo oggi si è originato esclusivamente nell'europa dell'est quando i miti della tradizione orale di numerosi gruppi etnici vennero messi per iscritto e pubblicati nella maggior parte dei casi i vampiri sono creature malvagie redivive vittime suicide o streghe ma possono anche essere cadaveri posseduti da spiriti malevoli o umani trasformati dopo essere stati morsi da altri vampiri durante il diciottesimo secolo vi fu un impeto frenetico di avvistamenti di vampiri nell'europa dell'est con frequenti rituali che comprendevano impalare o disseppellire un corpo per individuare potenziali morti viventi a cui partecipavano anche ufficiali del governo nonostante si trattasse dell'era dell'illuminismo durante il quale numerose leggende folcloristiche vennero domate la credenza nei vampiri aumentò drasticamente creando un'isteria di massa in tutta europa nonostante sia difficile dare un'unica definitiva descrizione del vampiro folcloristico vi sono tuttavia alcuni elementi che sono comuni a molte leggende europee i vampiri erano generalmente descritti come gonfi con una carnagione scura o sanguigna queste caratteristiche erano spesso attribuite alla nutrizione a base di sangue il vampiro nella sua tomba tendeva a perdere sangue dalla bocca e dal naso mentre il suo occhio sinistro rimaneva spesso aperto veniva seppellito rivestito con un telo di lino e i suoi denti capelli e unghie continuavano a crescere dopo la morte le zanne ovvero i canini superiori invece non facevano parte delle sue caratteristiche in realtà i cadaveri si gonfiavano di gas accumulati nel tronco e la pressione forzava il sangue a uscire dal naso e dalla bocca per questo motivo il corpo sembrava gonfio ben nutrito e dalla carnagione sanguigna caratteristiche che potevano spaventare soprattutto se il defunto in vita era stato magro e pallido è anche stato ipotizzato che le leggende sui vampiri fossero influenzate da singoli individui sepolti vivi a causa delle mancate conoscenze mediche dell'epoca in alcuni casi in cui delle persone avevano sentito dei rumori provenire dall'interno di una tomba si erano poi scoperti scoperchiandola segni di unghiate sulla bara da cui la vittima aveva tentato di fuggire in altri casi la persona sepolta viva aveva battuto la testa contro la bara sanguinando dal naso e dalla bocca il sangue fece credere a chi aveva dissotterrato la bara che il cadavere si fosse nutrito tra virgolette altre volte i rumori erano causati come già spiegato dalla fuoriuscita di gas durante la decomposizione un'altra causa di tomba trovata scomposta erano inoltre le frequenti profanazioni come si diventa vampiri pensate secondo la tradizione slava e cinese qualsiasi cadavere che veniva scavalcato da un animale particolarmente un cane o un gatto aveva la possibilità di diventare un non morto anche i cadaveri che non venivano trattati con acqua in nebollizione erano considerati a rischio nel folclore russo si diceva che i vampiri fossero un tempo streghe o persone che si erano ribellate contro la chiesa quando erano ancora in vita nel passato comunque i vampiri erano considerati esseri davvero esistenti al punto che alcune pratiche popolari erano utilizzate per scongiurare il ritorno nel mondo dei vivi di un caro istinto in qualità di non morto era in uso seppellire i morti a testa in giù e collocare oggetti terreni come le falci vicino alla tomba per soddisfare i demoni che tentavano di possedere il morto oppure per mitigare quest'ultimo e prevenire la sua risurrezione dalla tomba zone d'ombra ha dedicato un intero video al corpo di un bambino vampiro ritrovato in polonia ti lascio il link qui su altri metodi usati frequentemente in europa includevano la rottura dei tendini all'altezza del ginocchio o il posizionamento di semi di papavero di miglio o di sabbia sul terreno sopra la tomba di un presunto vampiro questa pratica intendeva lasciare i vampiri occupati tutta la notte a contare i granelli che cadevano all'interno della bara e li associava quindi alla ritmomania un po come accade con le streghe di questo metodo che ho già parlato nel video che parla della yanara anche qui c'è il link su in alto come si identifica un vampiro un metodo per trovare la tomba di un non morto consisteva nel far cavalcare un ragazzo vergine su uno stallone nero vergine all'interno di un cimitero il cavallo si sarebbe fermato sopra la tomba del vampiro inoltre l'apparizione di buchi sul terreno sopra una tomba era considerato segno di vampirismo cadaveri creduti vampiri erano generalmente descritti come più sani del dovuto gonfi ma con pochi o nessun segno di decomposizione in alcuni casi quando una tomba sospetta veniva aperta i presenti descrivevano il cadavere con la faccia ricoperta del sangue di una sua vittima la morte di bestiame pecore parenti o anche vicini di casa era la prova dell'attività di un vampiro nella zona alcuni vampiri folcloristici inoltre potevano testimoniare la propria presenza tramite attività simili a quelle dei poltergeist come scagliando pietre sui tetti o muovendo piccoli oggetti e provocando incubi a chi dormiva vuoi sapere come difenderti da un vampiro con l'aglio ovviamente ma si dice che anche la rosa selvatica il biancospino e principalmente la verbena siano dannosi nei confronti dei vampiri in europa inoltre si credeva che spargere semi di senape sul tetto di una casa li avrebbe tenuti lontani altri oggetti esorcizzanti potevano essere ad esempio crocifissi rosari o acqua santa poiché si dice che i vampiri non siano in grado di camminare su un terreno consacrato oppure di attraversare acqua corrente come quella dei fiumi anche gli specchi venivano usati per allontanare i vampiri ad esempio posizionandone uno sulla porta d'ingresso secondo alcune culture i vampiri non possono riflettersi e talvolta non proiettano la propria ombra forse per via della mancanza dell'anima altre leggende sostengono che un vampiro non possa entrare in un'abitazione se non invitato dal padrone di casa ma una volta invitato possa entrarvi e uscirvi a piacimento uno dei metodi spesso definiti efficaci per uccidere un vampiro forse lo saprai e impalarlo preferibilmente con legno di frassino trapassandogli il cuore ma in russia e germania si preferiva impalarli attraverso la bocca e nella serbia attraverso lo stomaco bucare la pelle del petto era un modo per sgonfiare i vampiri i cadaveri venivano talvolta seppelliti con oggetti pungenti di modo che se il corpo si fosse trasformato in vampiro e quindi gonfiato gli oggetti lo avrebbero bucato e sgonfiato la decapitazione era il metodo più usato in germania e nelle aree slave dell'ovest con la testa seppellita tra i piedi dietro le natiche o lontano dal corpo di modo che l'anima non si attardasse nella sua dipartita indugiando nel corpo terreno talvolta la testa il corpo o i vestiti di un vampiro venivano inchiodati al terreno per prevenire la rinascita gli studiosi hanno ipotizzato diverse cause per la nascita della leggenda sui vampiri la maggior parte legate a delle patologie alla malattia della porfiria per esempio o alla rabbia ma questo non spiega la presenza di alcuni reali vampiri nel mondo e anche in italia sì in italia né un esempio la lega italiana real vampires fondata nel 2013 da horus sat a cesena e poi trasferita a meldola la lega riunisce circa 11.000 iscritti tra i quali anche semplici appassionati ma si ipotizza che i veri vampiri in tutta italia siano più di 2000 lo stesso horus sat si definisce un real vampire e dice che proprio come i vampiri trae energia dal sangue umano e sente il bisogno di cibarsene un vero e proprio vampiro anche se molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere al cinema horus è apparso in diversi programmi televisivi nazionali come mistero e lucignolo per raccontare la vita dei real vampires horus ha 56 anni nato da una famiglia di vampiri ha un figlio anche lui vampiro e lavora regolarmente ma sempre precisato in molte interviste che i real vampires non dormono nelle bare non hanno paura dell'acqua santa e delle croci e non temono l'aglio in pratica sono persone come tante altre con la piccola differenza che sono vampiri con caratteristiche mediche diverse dal resto degli esseri umani horus ha detto di essere molto sensibile alla luce del sole al punto da doversi proteggere con creme ad alta protezione per non uscionarsi e inoltre ha il ciclo circadiano capovolto ovvero vive soprattutto di notte mentre la mattina dorme e il pomeriggio si dedica al lavoro la temperatura corporea dei real vampires è di 34,5 gradi ovvero due gradi inferiore a quella di un comune essere umano e le ferite e le fratture ci mettono circa la metà del tempo di una persona normale a ritornare a posto inoltre hanno i sensi più sviluppati forti facoltà empatiche e molti di loro anche capacità extrasensoriali di cosa si nutrono i real vampires per stare in salute si nutrono di energia prana che prelevano da altre persone che volontariamente si offrono a loro possono prelevarla in diversi modi ci sono gli psichici che prelevano energia prana dalla mente e dalle emozioni gli energetici che attingono l'energia attraverso l'imposizione delle mani e infine i sanguinarians i vampiri che prelevano energia prana dal sangue per stare bene hanno bisogno di circa un cucchiaio di sangue al giorno che può essere prelevato con delle siringhe o direttamente risucchiato dalla persona che si offre volontaria solitamente tramite una piccola incisione sul polso la cosa certa è che non aggrediscono le persone per strada come accade nei film horror e questo ammettiamolo ci fa tirare un grande sospiro di sollievo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti